Il Castello dell'Arancia ospita un evento promosso da Noi Marche che favorisce l'incontro tra i produttori e gli operatori della ristorazione. Tutto per promuovere il territorio anche attraverso le eccellenze enogastronomiche. Sì Luca, soprattutto attraverso le eccellenze enogastronomiche. Appunto è un po' lo scopo che ci siamo prefissi da diverso tempo, quello di far conoscere il nostro territorio a livello turistico e non solo. e con l'organizzazione Noi Marche di cui facciamo parte oltre a diverse altre città del Maceratese e del Fermano abbiamo collaborato a questa grande iniziativa secondo me che è quella appunto di far conoscere i prodotti ai nostri operatori. Che sembra una cosa banale ma in effetti non lo è. Quindi lo scopo è quello di dare al turista il prodotto da degustare per poi magari invogliarlo anche a comprare. Quindi diciamo un'iniziativa dove verrà anticipata da un piccolo seminario dove proprio in maniera molto libera si parlerà del tema al quale crediamo molto e che abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte dei nostri produttori di tutto il territorio perché abbiamo oltre 30 espositori che vengono proprio a far conoscere i loro prodotti.